benvenuti nel museo civico di ben riguardo a vogliera in provincia di ferrara con questo primo video volevamo presentarvi un oggettono un grande reperto presente in questo museo che è un po l'oggetto che ha dato vita poi tutto quello che state vedendo al museo stesso direi vi volevo parlare brevemente di questa stelle la stelle di ulp etenaide questa probabilmente è ulp etenaide cos'è una stelle un segnacolo tombale la nostra lapide questo è il primo oggetto scusate l'ombra dello smartphone è il primo oggetto trovato della necropoli romana di voghenza di epoca imperiale diciamo fra il primo e il terzo secolo dopo cristo nel 1976 un agricoltore stava coltivando i campi stava rando e un certo momento l'aratro ha tirato su un grande oggetto lungo stretto e tutto sporco di fango pensava fosse una bomba d'aereo chiamò i carabinieri i carabinieri la soprintendenza insomma la settimana dopo arrivò l'ispettore della soprintendenza e nel 77 l'anno seguente incominciarono i lavori di scavo archeologico che portarono la scoperta di 67 tombe alcuni contenenti reperti veramente molto belli abbiamo due oggetti 11 al mondo e il restauro di questa stelle che era stata spezzata così può vedere il taglio dell'aratro si tratta di una stelle scolpita in marmo pario è il marmo più prezioso del mediterraneo viene dell'isola greca di paros marmo usato da fide prasitele eccetera eccetera oggi la cavo è bene patrocinato dall'unesco e nell'iscrizione ci parla di una famiglia che vi seguì duemila anni fa quando buona parte i terreni tra ferrara verso il mare ovviamente ferrara ancora non c'era perché una fondazione alto medievale buona parte di questi terreni dicevo erano proprietà privata erano un latifondo di proprietà dell'imperatore e gestiva questi terreni grazie a dei funzionari imperiali che erano un po particolari erano schiavi li teneva come schiavi perché se avessero rubato tradito li poteva far uccidere senza processo quindi un modo per assicurarsi l'assoluta felicità dei suoi funzionari quello che paga questo monumento è uno di questi funzionari clemens chesaris servus servo del nostro cesare dedica la stelle alla moglie ulpia tenaide forse di origine greca tant'è vero che questo letto che vedete non è un trecchino romano ma una china greca e il cielo gli paga questo monumento bellissimo con questo marmo molto pregiato perché se l'è meritato abbreviato benemerentis notate una differenza di colore sopra è chiaro sotto è più scuro perché a questo livello qui fino a qui la stella è rappiantata nel terreno con un palo in questo foro per dare maggior stabilità al monumento eccovi la stella di ulpia tenaide